I koala dormono 22 ore al giorno L'ho scoperto oggi ascoltando la radio Praticamente i koala mi sono sempre piaciuti Ma adesso mi piaceranno ancora di più Cioè del tipo, fosse un koala non mi dispiacerebbe Me ne stare lì sull'albero aggrappato Tranquillo tranquillo tutto il giorno A dormire, bello Beh, ma a parte questo Benvenuti al mio terzo vlog Ed oggi, come potete vedere Mi sono strutturato in modo da non essere Sempre di corsa e sempre mosso Cioè, prima nei primi due Ero tutto quanto shakerante E probabilmente mi sarà venuto mal di mare O quant'altro, perché era un casino Beh, oggi ho scoperto una cosa Molto fica, ma molto Del tipo, ho scoperto questa carta La PU card Che praticamente ti permette Lei Io non ce l'ho adesso Perché non Stanno ristrutturando tutto quanto il sistema In pratica hanno eliminato la carta E fanno tutto quanto in digitale Praticamente ti permette Se abiti in Piemonte Di avere un sacco di agevolazioni Del tipo, per qualsiasi cosa che riguarda la cultura Quindi per teatri Per cinema Per i trasporti E i musei Un sacco di cose E tu con questa carta Se sei tra non so quanti anni E 29 anni Tu praticamente puoi avere un sacco di sconti Più a delle Delle iniziative Degli eventi Del tipo Oggi mi hanno detto Tipo un aperitivo All'informa Giovani Di Asti In cui poi si parla di cose Che riguardano il volontariato Eccetera E praticamente tu guadagni dei punti Guadagni dei P-point Guadagni Non mi ricordo come si chiama Come si chiamano Sì beh Non c'è scritto come si chiamano Ma io li chiamerò P-point P-u-point E praticamente Puoi avere Accesso Gratis al cinema O degli abbonamenti Per Penso biblioteca Per cinema O per trasporti Insomma Ti danno un sacco di cose Gratis Se partecipi a queste azioni Di volontariato O Convegni E lo puoi utilizzare In tutto quanto Puoi utilizzarlo in tutto Piemonte praticamente Più che altro Torino Mi hanno detto E anche Nel territorio Sia nazionale Che internazionale È una fegata Bene P-u a parte Oggi è stata una giornata Davvero fantastica In quanto Fuori C'era un sole Che scaldava tantissimo Anche se faceva freddo E poi Perché Ho telefonato Per un'intervista radio Che dobbiamo fare In merito al In merito al nuovo sito Dell'informa giovani Che stiamo facendo Per questo Sono andato all'informa giovani Sono andato perché Dobbiamo Dovevo invitare Una persona che sta là Ad un Ad un programma radio Che andrà Che registreremo Il Che registreremo il primo febbraio E così Sono andato lì Ho visto questa carta E mi è interessato tantissimo La giornata Era stata fantastica Anche perché Questa mattina Dovevo andare A far firmare Dei fogli per lavoro E praticamente Sono finito In un paese In cui non andavo Da tanto tempo E ho rivisto Un sacco di Ho rivisto un sacco di cose Del tipo Una casa In cui entravamo dentro Così di nascosto Era ancora in costruzione Che adesso Praticamente Erano quasi finita Di costruire Poi Il vecchio campo da bocce In cui si facevano i salti Con le mountain bike Tempo fa E poi Dove Praticamente La casa dove Finiva il pallone Quando ci giocavamo E bisognava sempre Dargli a suonare E dire Ciri dai la palla Ciri dai la palla È un casino Quando non c'erano Insomma È stata fantastica Come giornata Dal mattino Fino alla sera Adesso fa prendissimo Infatti sto congelando Però Mi piaceva questo posto E Praticamente Sono nel Parco Di Asti È un parco Non so come si chiami Ma è dove c'è Piazza Alfieri Sì Poi oggi è successa Una cosa brutta Però anche È partito il computer Praticamente Avevo Avevamo portati La casa Che utilizzavo Anche abbastanza E ultimamente Non si accende più Cioè Si accende Ma non si avvia Quando Si viene acceso Dopo si spegne subito È un casino Adesso proverò a risolvere Ma non so se ci riuscirò Ma lo spero Riguardo ai precedenti video Ho notato che Sono subito saliti Di visualizzazioni Infatti Sono rimasto colpito E non me l'aspettavo Spero Continuate a seguirmi Io sono Francesco Yoshigobbo Mi trovate Su YouTube Mi trovate un po' Dappertutto Se mi cercate Potete iscrivervi Se vi è piaciuto Qui sotto Vi saluto ancora Ciao E al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti